D'accordo, ve lo racconto un'ultima volta. Sul serio stavolta. Mi chiamo Miles Morales. Sono stato morso da un ragno radioattivo e per tipo due giorni sono stato il sole ed unico Spider-Man. Il resto lo sapete. Ho finito il mio compito. Ho salvato un sacco di gente. Sono stato colpito da un drone. Ho fatto questo con mio padre. Mi sono finalmente presentato al mio compagno di stanza. Ho incollato uno sticker dove mio padre non lo troverà mai. E quando sono solo e nessuno capisce quello che sto passando, ricordo i miei amici che lo comprendono. Mai avrei pensato di riuscire a fare tutto questo, ma ci riesco. Ci può essere... chiunque. Dietro la maschera, anche voi. Se prima non ci credevate... ora forse sì. Perché io sono Spider-Man. E non sono il solo. Neanche per sogno. Di simile del poffino. Gli bando non ci saranno prendono un prossimo. community. Temina giro. E non la ricca della gostaria. Ils pensient aja. Naps tutti. Grazie per la visione